Anche questa settimana si osserva una tendenza alla diminuzione del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese. L'incidenza scende di nuovo al di sotto di 1000 casi per 100 mila abitanti, per la precisione stiamo intorno a 977 per 100 mila. Per quanto riguarda l'RT, anche notiamo una tendenza alla flessione, anche se lieve. L'RT è ancora di 1,23, quindi è al di sopra dell'unità che rappresenta un po' la soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 17,1% e al 4,1%. In questo caso notiamo ancora una lieve tendenza all'aumento, anche se soprattutto per quanto riguarda la terapia intensiva stiamo bene al di sotto della soglia critica. Data la velocità di circolazione virale è ancora relativamente elevata, è bene mantenere i comportamenti ispirati alla prudenza, ma soprattutto ricordiamo l'importanza di effettuare la quarta dose di vaccino che protegge dalla malattia grave. Questa dose di vaccino, che è la seconda dose booster, va somministrata alle persone di età superiore ai 60 anni e a tutte le persone fragili.